grande portia che pugnice ha? ce l'avevo tenetissima ma perchè? io ho fatto il passaggio ma come fanno queste cose? occhio si perchè ma perchè hai fatto la dei bar perchè te lo devi hai fatto la finta però perchè ho perso zigi ho perso perchè hai fatto così con una stupida ma ho fatto il passaggio sicuramente io ho fatto il passaggio io ho fatto il più facile il passaggio provami provami ma che passaggio ma che passaggio ehm in teoria erano mi posso provare a fare da lunga distanza si non è più semplice ma come fanno a fare i passaggi così precisi guarda 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 tutto fallo sarebbe da giallo eh sia quanto ci fa? dammi cerca di passarmela e la vado a tirare anche se abbiamo di distanza ok? più forte era un massimo davvero? si eh fai allora la persona fai provare a me tirato anche io ma perché dici per certo? ma sono un cacchino di rilasciarsi alle spalle quest'errore guardare avanti ecco qui c'è il parole recupero la palla nessun problema qui per il quartiere su questo vino da fuori allora è un po' segno nooo nooo è un po' segno è un po' segno e siamo entrati in lungo negli ultimi due minuti oh ma Ammonito Ammonito non è una femmina è albitrone assai eeeh italiana spagheto sicuro qui l'intervento del quartiere che blocca conclusione non particolarmente potente per il quartiere ordinare amministrazione intercettano bene il pallone intercettano bene il pallone intercettano bene il pallone intercettano bene il pallone c'è spazio attenzione 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 perchè è a tramonico eh sì non posso poter mettere il pallone attenzione anche Allora ragazzi abbiamo perso 4-0 ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao!